E terzo icone è la danza. Provate ad addestrarvi a danzare, a rappresentare l'universo attraverso il fluire delle movenze, la trasformazione soggettiva che comporta, l'uso dell'attenzione che ciò implica, la manipolazione della propria soggettività attraverso la quale devono fluire le rappresentazioni della vita, dei sentimenti, delle emozioni che dal mondo arrivano al soggetto che danza e che questo ritrasmette al mondo che lo guarda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Danzare significa rappresentare, rappresentare quei fenomeni e quelle tensioni che hanno inciso i propri sentimenti attraverso la propria attenzione. L'individuo che danza manipola se stesso. All'inizio è una manipolazione di un'azione fisica, ma mano a mano che questo procede diventa manipolazione delle sue emozioni, dei suoi sentimenti, della sua percezione del mondo. Così il soggetto che danza rappresenta agli esseri umani sentimenti e sensazioni che gli esseri umani non sono riusciti nello stesso modo dai confini della ragione, che non conoscono. Nel rappresentare tarsi core, l'essere umano danza la vita, manipola le sue emozioni e si presenta davanti alla morte del corpo fisico come un corpo luminoso forgiato dalle infiniti danze che ha costretto se stesso ad eseguire. Si presenta con la forza delle infinite emozioni che ha percepito, fagocitato e rappresentato. Egli ha costruito se stesso nell'infinito. La prima volta del corpo 푹 sulla guerra Lo scacateca needing a mover al piede, GRANDELITOMICAMENTE, il piede il corrispone gli st Antonio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.